O che serve, romanzo da mamma, solitario più forte, si chiusa la morte, vale l'ora, una nuova forza e un palco di assù, O che serve, romanzo da mamma, solitario più forte, si fanno la prima, solitario più forte, si chiusa la morte, vale l'ora, una nuova forza e un palco di assù, Grazie a tutti. Grazie a tutti.